Stop ai lavori per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere a Sansepolcro. Il cantiere infatti è stato sequestrato e sono scattate anche tre denunce. Così si è concluso il controllo eseguito per verificare l'esistenza e il funzionamento delle opere a protezione delle risorse idriche del suolo effettuato dai carabinieri forestali con il Dipartimento Arpata di Arezzo. Le opere di protezione sarebbero state attestate nel progetto esecutivo dell'opera approvato dal comune di Sansepolcro. Il sopralluogo avvenuto con la presenza del direttore dei lavori avrebbe però contestato l'assenza di quasi tutti i presidi ambientali che dovevano invece essere adottati prima che le opere iniziassero. Il cantiere sarebbe risultato poi sprovvisto di un sistema di fossi per la raccolta e lo smaltimento delle acque pluviali e non avrebbe impianti per il trattamento delle acque superficiali prima della loro emissione nella rete idrica superficiale. Da qui l'immediato stop al cantiere, tre poi le denunce che sono scattate nei confronti del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Adesso avranno 90 giorni a disposizione per mettere a norma il cantiere e l'ottemperanza determinerà sia la ripresa dei lavori che l'estinzione del reato. L'amministrazione comunale di Sansepolcro, si legge in una nota del comune, sta lavorando con i propri uffici per risolvere al più presto ogni eventuale problema e per consentire l'immediata ripresa dei lavori. L'interesse dell'amministrazione, concludono, è quella di garantire la massima tutela ambientale e di realizzare nel più breve tempo possibile quest'opera strategica per la città. Grazie a tutti.